L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del business, aprendo nuove prospettive per le aziende di ogni settore. Grazie alla sua capacità di elaborare grandi quantità di dati, automatizzare processi complessi e migliorare l'efficienza operativa, l'intelligenza artificiale offre enormi potenzialità per lo sviluppo del business. Sull'evoluzione del marketing nelle piccole e medie imprese si è diffusamente parlato nel corso di un incontro alla Fiera del Levante di Bari, al quale sono intervenuti importanti esponenti istituzionali del settore imprenditoriale, tra cui Lucia Ribiscelli, presidente della Camera di Commercio di Bari, Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante, Vito Lingeo, presidente di ConfCommercio, e ancora Antonio Loperfido e Luigi Tangorra della The Digital Box, che hanno illustrato come l'intelligenza artificiale sta trasformando profondamente le strategie marketing e quanto gli strumenti finanziari siano necessari per sostenere la trasformazione digitale delle imprese. L'intelligenza artificiale è qualcosa che ci sta arrivando così, come se fosse una cosa nuova. In realtà ce l'abbiamo già nei telefonini, ce l'abbiamo già nei computer. è l'evoluzione e non ci deve spaventare questa evoluzione perché è necessaria. Chi prima arriva prima alloggia e quindi se riusciamo ad usarla nei nostri negozi per interloquire meglio con i nostri clienti, per formare ancora meglio i nostri dipendenti e per far sì che i nostri profitti, non è una brutta cosa, possano essere anche migliori, perché no? È qualcosa che bisogna accettare con le dovute cautele. Ma l'applicazione dell'intelligenza artificiale e del marketing di cui parlava poco fa, come viene recepita nel settore del commercio per esempio? Beh, io devo dire che basta formare i commercianti o gli imprenditori e fargli capire qual è l'importanza. Io parlavo proprio l'altro giorno con un negoziante di abbigliamento che ancora con i cartellini fa le rimanenze e quindi scrive ancora con la penna tutto. Il computer non è ancora arrivato, spero che arrivi al più presto. Cercheremo di fargli capire che ora con l'intelligenza artificiale non c'è più bisogno di fare tutto a mano ma addirittura bisognerà chiedere al proprio telefonino se c'ha quel capo, se c'ha quella taglia e se c'ha quel colore e ti risponderà. Un evento di grande rilevanza per il futuro del business, quindi tuttavia se da una parte emergono opportunità significative dall'altra sono presenti anche sfide che richiedono attenzione, pianificazione strategica e investimenti adeguati. Diciamo che fra le tante sfide che le imprese oggi devono affrontare sicuramente c'è quella dell'innovazione tecnologica che però non va subita e quindi i momenti come questo di informazione ma soprattutto di formazione restano fondamentali nell'approccio delle imprese a voler sviluppare alcune tematiche che devono necessariamente essere inquadrate nell'ottica del supporto alle imprese stesse. L'altro giorno anche in Camera di Commercio abbiamo fatto il PID Stadi Tour in cui abbiamo presentato alcune applicazioni che in realtà, mentre sembrano molto lontane dal mondo del commercio anche quello di vicinato, in realtà offrono degli strumenti davvero fantastici per poter implementare il fatturato dei negozi di vicinato ma per dare anche una dimensione a quei negozi che ormai sono piccoli ma ricordiamoci la dimensione piccola delle imprese è di suo un problema, costituisce un problema per farle diventare più grandi, più strutturate, per aprirsi ad un mondo più grande anche perché i players ormai più importanti giocano su più livelli e quindi attraverso l'intelligenza artificiale e la governance di questo strumento si può sicuramente riuscire a fare altro.